Lo so che ispira la simpatia di una specie di peluche, però non è questo, è un predatore ed è un animale che per esempio se pensa che qualcuno voglia prendergli la preda o quello semplicemente quello che sta mangiando nel cassonetto è molto pericoloso, è un animale che può fare molto male e può essere provocato da una reazione violenta anche da un cane che gioca un po' violentamente o da una persona che accorcia troppo le distanze, insomma voglio dire non è un animale che si può trattare in questo modo. Per capire perché l'orsetto Juan Carrito è stato ancora una volta allontanato dai centri montani che era abituato a frequentare, Roccaraso su tutti, bisogna partire proprio da questa considerazione che Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella, ha rilasciato al microfono del Tg8 rispondendo alle polemiche sulle operazioni che hanno portato alla cattura dell'orsetto e all'allontanamento dai luoghi antropizzati che hanno visto Juan Carrito protagonista di numerose scorribande. Non è dunque per scortesia o inospitalità che il cucciolo di Plantigrado si trova ora nell'area faunistica dell'Orso Bruno del Parco Nazionale della Maiella a Palena ma per tutelare uomini e animali perché, come ribadisce il presidente Zazzara, con gli animali selvatici l'incidente può essere sempre dietro l'angolo. Naturalmente non poteva essere lasciato nell'ambiente di Roccaraso anche perché le persone si stavano troppo abituando alla sua presenza e l'incidente ovviamente è sempre in agguato. Poi d'altra parte i protocolli ufficiali prevedono che non appena un animale di questi entri in un rapporto più diretto con l'uomo deve essere messo in cattività perché potrebbe essere pericoloso. Juan Carrito è una storia un po' strana, per la verità è la prima volta che succede, non abbiamo traccia di situazioni simili perché lui è uno di tre cuccioli, figlio della famosa orsa marina che già stagionalmente scendeva nei paesi e quindi si faceva tranquillamente vedere nelle periferie di questi paesi, soprattutto del Parco d'Abruzzo. Però dei tre cuccioli, mentre gli altri due crescendo hanno ripreso un tenore di vita più naturale, più selvaggio, Juan Carrito ha avuto questo imprinting per cui l'ambiente del paese è l'ambiente per lui naturale e quindi è un orso che poi anche per la sua giovane età, perché adesso ha appena compiuto due anni, cerca altri animali per giocare, cerca cibo facile e quindi ha imparato a muoversi in questo ambiente che sicuramente non è quello che sarebbe a lui destinato. Adesso lui che fine farà? Non farà nessuna fine perché noi non abbiamo nessun interesse come parco di tenerlo in cattività perché noi non teniamo gli animali per questo. Dobbiamo sperimentare una procedura per tentare di indurlo a riassumere comportamenti più naturali e quindi dopo aver tentato varie volte di rimetterlo in ambienti naturali ma probabilmente non aiutati dalla stagione abbiamo dovuto progettare questa cattura con lo spostamento in un'area appositamente preparata per lui dove non avrà contatti con le persone e quindi dove potrà essere supportato per cominciare innanzitutto a staccarsi da quel tipo di ambiente e poi per abituarsi ad una nuova immissione in un ambiente più naturale perché poi lui sarà di nuovo spostato in alta montagna e questa volta cercheremo di provare nuove tecniche per cercare di indurlo a rimanere il più possibile diciamo in un ambiente non urbano.